Il regno del terrore è iniziato mua ha 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 Amici dopo qualche settimana siamo tornati nelle murder mystery Piacciono a moltissimi di voi quindi perché non portarle sul canale Tra l'altro prima di iniziare con questo video vi rubo proprio due secondi per dirvi di andare a guardare per forza Per forza Il video sia di ieri che dell'altro ieri sono stati due giorni bel produttivi Perché vi potrebbe interessare in caso per chi l'avesse visto sa di cosa sto parlando Occhiolino occhiolino Ma signori non perdiamo altro tempo iniziamo con le murder mystery Incrociamo le dita perché oggi voglio proprio fare l'assassino Ma non ditelo in giro Iniziamo Allora amici come ben vedete siamo nei menu che tutti conoscete dal murder mystery Però non siamo nelle classiche bensì nelle double up Che se non sbaglio dovrebbero essere quelle nel quale ci sono doppi assassini E doppi Detective Ok non mi veniva in mente il nome ci avrò pensato 20 secondi Questo è strano fa capire quanto oggi Faremo schifo alle murder mystery Ho intenzione di farmi un paio di partite Come ho detto ovviamente nella intro ma Shhh non ditelo in giro a nessuno Voglio fare perfetto siamo innocenti Dannazione volevo fare l'assassino ma purtroppo appunto come avete visto siamo innocenti Però stavo notando che questa mappa è bellissima Cioè è in stile nether È in stile robestrone Poi ora Se voi guardate i miei video delle murder mystery Sapete che come assassino non sono proprio un fenomeno Come detective me la cavicchio Ma la cavicchio non è male Qui vedo che ne mancano 22 Non è stato ancora successo niente Questo qui mi puzza di assassino Invece no dai sta scappando Tu mi sembri proprio una bravissima persona Cheat mi uccide Quanto era quotato se mi uccideva Ridevo come un animale Ridevo proprio per tre ore Ma questo qui io ho visto la spada Eh no esatto Lui c'ha largo Stia buono Signor pinguino stia buono Signor pinguino Stia buono Perché lo vedevo molto agitato Ok Non lo so Mi sembrava di aver visto una spada Non lo so Voi l'avete vista signori Se avete visto una spada Fatemelo sapere Questo qui vestito da creeper Molto bello Molto interessante come skin Tra l'altro finalmente Anch'io posso sfoggiare la mia skin Finalmente E niente Cerchiamo di rimanere in vita Tra l'altro come vedete lì sulla destra Siamo rimasti solo in 4 Oh scappa Scappa No no è lui è la fine Signori è la fine Rip Rip Omega rip Omega rip Extra omega rip Scappa Scappa massero Massare scappa Paraparaparaparapa Ok la smetto La smetto E lui è un altro assassino Mi sa che ho visto tutti gli ass No che intelligenti questi due Bra No no scusa scusa Non voglio fare niente Non voglio fare niente Ma va Che tattico Ok perché hanno in tre l'arco Perché hanno in tre l'arco Ok Questa me la spiegate voi Perché non l'ho capita Un passaggio segreto si è aperto Ok Cosa Allora Cosa sta succedendo Cioè io ho pensato di fare una partita murder mystery normale Invece mi sta succedendo 3 con l'arco Passaggi segreti Bambini morti no No Ok Che strage Siamo rimasti 9 Uuuuh Ecco perché c'è l'arco L'8 Uuuuh Uuuuh Quindi ho la possibilità di tirare Un colpo solo con l'arco Uuuuh E no sta facendo stragi E lui ho sbagliato Ecco perfetto abbiamo sprecato tutto È la fine È lui No No È lui L'ho visto Scappa No È la fine Signore è la fine Signore è stato un piacere Addios proprio Ciao 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 Io so chi è l'assassino Scappa masserino Dall'assassino Devo smettere di cantare e inventarmi canzoni Però non sono belle le canzoni che invento Dai non potete dire che non piacciono le canzoni che invento Ok fanno schifo Potete dirmelo tranquillamente Non mi offendo Potrei solo piangere per settimane E non parlare mai più con nessuno Ma comunque Potete dirmelo Lacrimuccia che scende Ok Lui è l'assassino Non c'è È la rip Morti Guardate ora come You die Voglio piangere Però voglio anche rigiocare un'altra partita Un'altra partita Torniamo alla lobby La devo smettere Dai Era anche una bella partita Comunque la tattica Quella di appunto mettere Quella di appunto mettere Gli assassini No non è vero I detective Tutti in una zona Che puntano con l'arco Una bellissima tattica Poi se gli assassini sono bravi In questo caso sono stati molto bravi Ci hanno uccisi tutti E non ce la mandiamo Ora Mancano tre secondi Dai Fatemi fare Dai il detective C'ho il 5% Perché io nella vita Non ho mai gioia Perché non Perché non posso mai fare Cos'è Dai Che bella sta skin Dai ma perché Non faccio il detective Cioè quant'è inquietante Da uno A troppo Questa skin Cioè io direi Troppissimissimo Troppissimo Però l'ho appena inventata Magical ice cream Lo voglio Voglio un gelatino Quindi prendiamo Due di oro Per un gelatino Chissà cosa ci Dà Il gelatino Sapete che oggi Sto cantando un po' troppo Strano Chiudi Non te l'aspetta Che imbarazzo Che imbarazzo Che imbarazzo Dai Ciao Che imbarazzo Basta facciamo No vabbè Non l'ultima Perché ne abbiamo fatte Molto poche Però Torniamo nelle double up Se non si Allora Se siamo gli innocenti Ci facciamo questa E poi in caso Facciamo un infestation No voglio che io fare parkour Poi in caso ci facciamo Un infestation Così almeno sappiamo Che siamo O zombie O quelli che li uccidono Gli zombie Non chiedetemi come si chiamano Gli zombificatori Vabbè Lasciamo perdere Comunque in caso Se ora siamo indocenti Ci facciamo un infestazione Se no Murder Sì Il regno del terrore Iniziato Finirà in tragedia Finirà in tragedia Manca un secondo Io vi ucciderò Tutti Nel sonno Addio E già uno è andato E già No è vero Mi ha sgamato alla fine Ah no Mi ha visto l'assassino Perfetto Perfetto Salve signor Ragazzo innocente Che non ha potuto Ta Ta Steve Oh C'è un altro Steve C'è un altro Steve Lo inseguiamo Per tutta la mappa E poi lo colpiamo E poi lo colpiamo Signori Stiamo andando molto bene Stiamo andando molto bene Quante chili ho già fatto Cinque E il mio socio Z Beh che dire È andata male Dai Devo ammetterlo Devo ammetterlo Cioè stava andando Tutto così bene Ci siamo Signori sono triste Signori sono molto triste Però dato che siamo stati Gli assassini Che fai Tene privi Un'altra partita Come assassino Magari Sto giro Facciamo il detective Che abbiamo la chance Del 6% Dai 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 Fateci fare il detective Ecco allora Facendo l'assassino Me la cavicchio Cioè ovviamente Voi mi giudicherete Perché sapete meglio Di me Come giocare Però Siamo innocenti Dannazione Dai Dobbiamo chiudere il video Facendo l'innocente Va bene Dicevo Facendo il detective Me la cavo Però sono un po' Stordo con le frecce Cioè mentre facendo L'assassino Invece devi andare Le frezzale Spadate Mentre non se lo aspetta Nessuno E quindi Vi direi È un po' più facile Sni Sni Tra l'altro È già morto Un detective E qua Cosa Cos'è Sta partendo Una sfida Sta parte Vabbè Me ne vado Non voglio saperne niente E ok Ok Dobbiamo semplicemente Rimanere in vita 16 persone Left alive Come ci suggeriscono Sulla destra E 3 minuti Oh Dio un cadavro No sono morti Signori Cioè Cioè Perché io ogni volta Che dico Sta per finire in tragedia Mi uccido Non lo dico più Basta Facciamo l'ultima L'ultimissima Proprio Chiudiamo il video Sia che siamo assassini Detective Innocenti Sbra Sbra È tutto quello che volete Basta La chiudiamo Con questa partita E io non dirò mai Quanto oscura Questa mappa Non dirò mai più Sta per finire in tragedia Perché ogni volta Che lo dico Mi assassinano Cioè Quanto è impensabile Questa cosa Sia che sia detective O no Sì siamo detective Signori Chiudiamo il video Facendo il detective Dobbiamo capire Chi sarà l'assassino Di questa lobby I due assassini Cosa sta facendo Ok Dicevo I due assassini Di questa lobby Sperando che non uccidano Subito noi Però Dobbiamo diciamo Fargli capire Che noi siamo Mi detective Fatemi vedere Se qualcuno Estrae la propria spada In modo molto Salve Lei non mi convince per niente Se ne vada Se ne vada Di solito Quelli con la skin Più innocente Sono i più cattivi Non so perché Ma c'è questo presagio Questo presentimento E qui c'è Ok ci sono i lampi Basta Mi dico Basta Fin Quitta tutto Torna Chiudi Esca Fai Disconnetti Esci Oh il server di massa Prossimamente lo vedrete Cancella Quitta Signori Megadab C'è Perché ogni volta Che sta per andare bene Finisce in tragedia Proprio C'è Ma che 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 Vabbè Signori siamo stati picchiati Abbiamo picchiato Poi siamo stati picchiati Siamo stati arrestati Non abbiamo arrestato nessuno Queste sono le merdermi Starifatemi sapere se volete Altri episodi Sperando di riuscire a vincerne una Perché c'ha sempre chillato Inspiegabilmente Spero che questo video vi sia piaciuto Dovrebbe essere uscito alle 6 di pomeriggio Questo video per varie ragioni Vi ringrazio per la visione Vi do appuntamento domani Al solito ero a vero 2 e un quarto Per questo periodo estivo Anche se sarebbe bello pubblicarli Una mattina Ma non riuscirei mai a svegliarmi in tempo Con un nuovo video Ciao Basta Non farò mai più il detective Nella mia vita Anche se sarebbe divertente